A Napoli la scuola sartoriale ha secoli di storia ed ha creato uno stile che si riconosce al primo sguardo. Io sono praticamente nato tra tessuti, stoffe, campionari, forbici, attrezzature di sartoria. I gessetti erano i miei preferiti perché poi riuscivo sui pezzetti di tessuto a scarabocchiare qualche cosina. Era il 1948, quindi immediato dopo guerra si può immaginare la città, in che condizioni era. Eravamo nel quartiere avvocati, i miei genitori erano molto giovani. Decisero i miei genitori di aprire questo piccolo laboratorio sartoriale in questa casa dove poi io sarei nato successivamente. Si deve studiare per conoscere e poi bisogna imparare, bisogna sul campo, cioè sporcarsi le mani per imparare un lavoro. Sicuramente la formazione ha la sua importanza, lo studio non di meno, ma sicuramente una sinergia di entrambi non sarebbe male. Sono due cose diverse, secondo me imparare più sul lavoro. Ci si forma sul lavoro, ci si forma sul lavoro, la teoria è un'altra cosa. Quindi il tuo grande amore hai scoperto che è la prototipazione 3D e ti sei anche reso conto di quanto sono richieste le professioni digitali. Sì, assolutamente, perché danno possibilità a diversi campi di attingere da questa tecnologia. Grazie a questi macchinari, adesso ne vediamo uno in particolare in filamento, possiamo riprodurre e creare parti meccaniche, parti aeronautiche, parti per ingegneria navale, parti per droni, diverse grandezze di ingranaggi, insomma c'è una vasta gamma di lavoro. Vorrei capire, ma è difficile formare in un tempo così breve delle persone per il mondo del lavoro? Se si intraprende un percorso formativo soprattutto basato sulla pratica e si tagliano tutti i tempi morti che purtroppo spesso la didattica si trova ad affrontare, si possono ottenere ottimi risultati in un tempo breve. Anzi, la brevità del tempo può essere un incentivo a che i ragazzi non perdano concentrazione e rimangano applicati ad apprendere e quindi a formarsi. Si evitano anche fattori competitivi che ovviamente esistono all'interno del mondo del lavoro e quindi per acquisire delle conoscenze tali da avere l'ingresso nel mondo del lavoro la formazione professionale credo sia un elemento molto importante. Abbiamo una domanda del mercato, la domanda è quella delle imprese, che si evolve in maniera molto veloce e quindi la formazione non ce la fa a essere al passo di questa domanda. Cioè quando noi programmiamo i corsi delle scuole o delle università spesso non riusciamo a essere tempestivi nella capacità di rispondere alla domanda o addirittura anticipare la domanda. E quindi ovviamente c'è sempre una sorta di mismatch, c'è un problema di non incontro tra domande e offerte. L'agenzia mi ha dato la possibilità di capire quello che io cercavo. Mi hanno proposto dei corsi di formazione, mi hanno aiutato a trovare la strada giusta dove io voglio potersi esprimermi al meglio. Ma lavoro è dedizione, impegno, sacrificio, costanza e coraggio. Vito, il lavoro è vita perché il lavoro se si fa con passione diventa vita. Il lavoro è fondamentale, ci nobilita ovviamente ed è indispensabile, è quello che siamo. Ed è lì che capiamo che il nostro capitale umano è un patrimonio, ma dobbiamo saperlo riconoscere. Buon lavoro Italia!